Una maestra di Milena è stata condannata dal GUP del Tribunale di Caltanissetta Emanuela Carrabotta a quattro anni di reclusione perché accusata di presunti maltrattamenti sugli alunni. L'insegnante Maria Capitano, oggi 62enne, in servizio nella scuola di infanzia del plesso Gianni Roderi, nel 2019 è finita al centro di un'indagine scaturita dalle segnalazioni dei genitori dei bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni. I carabinieri, attraverso una telecamera nascosta, hanno documentato i maltrattamenti dell'insegnante che sottoponeva i suoi allievi a minacce, percosse e punizioni di vario genere, tanto da creare un clima di terrore all'interno della classe. La maestra si sarebbe resa responsabile di rimproveri arbitrari, lanci di oggetti, minacce, schiaffi, strattonamenti, spinte, pizzicotti e tirate di orecchio. I genitori dei bambini si sono costituiti parte civile con gli avvocati Massimiliano Bellini, Salvatore Tona, Calogero Buscarino, Salvi Virciglio e Dario Giambarresi.